Oggi vi leggerò tre notizie Around Una di queste tre notizie sarà falsa Voi dovrete indovinare quale Sembra quasi la serie di notizie assurde del mondo Si esatto, perché dopo 20 episodi di notizie assurde del mondo Volevamo dare un twist Alla serie per renderla un po' più originale C'eravamo rotti il cazzo Si, sostanzialmente si No, vogliamo solo dimostrare che siamo fortissimi A capire quali sono le notizie vere e quelle false Perché dopo un anno Qualcosa avremo imparato E invece Bambino esplode insieme all'Africa Vira Perché ho la cartellina e vesto come un coglione Perché sei vissuto così Perché oggi faccio il presentatore Che sogno di una vita eh ragazzi Guarda mamma faccio il presentatore Quattro euro da tiger E se parli così non si sente il microfono Quindi siete pronti? Siamo pronti Allora numero uno Pescatore russo si salva dall'orso con la suoneria di Justin Bieber Possibile Era baby Dopo le approfondiamo tutte le notizie Ah ok perfetto perfetto Eh non si può approfondire Però volevo capire se avessi indotto l'orso al suicidio O semplicemente fatto scappare Magari l'orso era un fan di Justin Bieber Ha preso il telefono e se n'è andato Eh eh sentiamo le altre Seconda Imputati napoletani non capiscono l'italiano e chiedono il traduttore Cioè il traduttore italiano napoletano? Si Seconda cosa può essere vera Ragazzi sono tutte vere Però è napoletano magari una bufala Voglio darglielo in testa sto cosa Picchia la moglie per farla diventare testimone di Geova Questa non è vero che si picchiano le mogli Cadono per le scale La moglie cade dalle scale per diventare testimone di Geova Allora Beh se la gioca Justin Bieber E la picchia la moglie Forse direi Justin Bieber Quanto è triste il fatto che Picchiare le mogli non sia poi così assurdo Justin Bieber Io voto picchi alla moglie E ha avuto ragione Leo Oh È falsa lei di Justin Bieber È notizia di un pescatore russo Che si salva da un orso Ah perché in Russia non ci sono pesci da pescare No è una bufala che è girata nel 2015 Diventata pure virale Quando baby era ancora Una meme Era divertente mettergli dislike Adesso approfondiamo È vera la seconda notizia Tratta dal Corriere del Mezzogiorno Macerata imputati napoletani non capiscono l'italiano E chiedono il traduttore Alexa cambia lingua in napoletano Sotto accusa per spaccia hanno dichiarato di non capire la lingua E il giudice Francesca Preziosi Ha deciso di nominare per loro un interprete Mi ricordo Capitano America Io non parlo italiano Sarai il primo a tradurre in napoletano Gli atti di un processo celebratosi in un tribunale italiano Mentre arriva da Bologna La notizia picchia la moglie Per farla diventare testimone di Geova Ma sei riuscito È il dubbio che ci siamo posti tutti quanti A queste nuove religioni Da me facevano il battismo per farti diventare cristiano In test mangiare si pestano a sangue Ma che mossa di karate ha usato secondo te? Ha usato crocifisso cosmico Secondo round Fa una mossa di wrestling alla figlia della compagna Bimba di due anni muore per le gravi lesioni E la madonna Vera Bent andertaker che ti pede per il collo e poi ti sbatte per terra Gli ha fatto quella E dopo facciamo questo gioco? Alexa play The legend killer Ormai la musica c'era cosa vuoi fare La seconda A 13 anni in gita scolastica Tornano incinta in sette Questa l'avevo letta Questa anch'io l'ho sentita Però non so se è falso o meno Questa è una fake news La terza Decidono di sparare i petardi in casa per non spaventare i cani E muore la nonna Mi sa che quella di prima non era una fake news Io ho fiducia nelle due morti della bambina e della nonna Dico che la fake news è quella di 13 anni Decidono di sparare i petardi in casa per non spaventare i cani E muore la nonna Questa è falsa dai ragazzi Tu cosa voti? Io ho le 13 anni Io dico quella Ah fa una mossa di wrestling secondo me è sicuramente vera È troppo bella per non essere vera A 13 anni gita scolastica torna Dai anche io voto Secondo me era fake Sette sono troppi La notizia falsa Era decidono di sparare i petardi in casa per non spaventare i cani E muore la nonna Te l'ho detto Giovanni Ma abbiamo pure detto che eravamo fortissimi a decrittare quelle false e quelle vere A 13 anni gita scolastica è vera No ma io voglio vedere i figli di queste ragazzine Se no non ci credo Guarda sono nella classe sotto di loro Quale approfondiamo per prima? La bambina che muore Ok È successo nel Missouri Muore a due anni dopo che il fidanzato della madre le fa una mossa di wrestling C'è la mossa Vorrei almeno sapere la mossa L'uomo L'uomo avrebbe eseguito una battista bombe Mamma mia bellissima battista bombe L'ha presa sulle spalle da davanti e proprio la schiacciata per terra Ci sta che muoia pure sul letto a due anni ragazzi Schiacciandola con l'insorpeso davanti agli occhi della madre Ma porca puttana scherzi La piccola avrebbe iniziato ad avere delle convulsioni Nooo Sai che succede quando c'è una costola nel naso Un sintomo buono Mentre Non hanno 13 anni queste Questa è una foto Vabbè non è vero Il repertorio ok È successo in Bosnia In Bosnia Dove sette ragazzini di 13 anni sono tornati incinta da una gita scolastica Partono in 28 e tornano in 35 È quello importante di bene della gita Beh Beh Nipotino Terzo round Prima notizia Il compagno le mangia tutte le patatine fritte Lei lo ha coltella Questo è vero È successo pure a me probabilmente Porta ogni giorno il cane al poligono di tiro Per farlo abituare ai botti di Capodanno Non lo so Rick Poi non ce la fa e si fa ripetardi in casa E uccide la nonna Voglio la torta Urla il bambino in fila È un altro cliente Compra tutte le 23 fette Per fargli dispetto Ah quello ero io Eh pensavo fosse una storia vera tratta dalle vostre vite Ok quindi qual è la notizia falsa Il cane al poligono Fatta dire secondo me E Ha vinto giovane Accidenti Probabilmente era realmente molto affamata Diane Clayton La 34enne arrestata per aver accoltellato il compagno Simon Hill Reo di aver mangiato tutte le sue patatine fritte La donna ha afferrato un coltello e ha ferito l'uomo Provocando inizialmente poco più di un graffio La mattina successiva però Ha aggredito nuovamente il compagno Ma perché Che ha riportato ferite alle mani È perché lei si è svegliata la mattina e ha fatto Madonna ho l'appetito da ieri Ma è perché non ho mangiato le patate Struzzo Davanti a un giudice del tribunale del Becnabur Boh dai vabbè L'altra invece è la caduta da New York Ma poteva benissimo succedere a Trento Sud I bambini vite di capricciosi merito in una lezione Questo deve aver pensato l'uomo che In un Burger King americano Ha comprato tutte le fette di torta disponibili Solo per fare un dispetto a un piccolo cliente È fortuna che non ha chiesto un Big Mac il bambino Perché sennò era morto la... E tutti i big... Aspetta Il post in cui racconta l'accaduto è intitolato Sono una brutta persona per questo No no finirai solo all'inferno È il subreddit Andrò all'inferno per questo Ciazzo me ne frega di andare all'inferno 23 fette di torta O meglio Sai come ci finirai Col diabete Ragazzi spero che questa nuova serie Vi possa piacere Una sorta di evoluzione di notizie assurde dal mondo Primo stadio Ma che evoluzione? Andrò si suicida Se voglio un portafare badumts con la tastiera No È quasi preso Ma porca Ma c'è adesso le notizie legge te Scad che cazzo fa? No no ragazzi Continuate a mandarci le notizie su Facebook Anche quelle false Mandate pure quelle fake adesso Che dobbiamo fare tutte le conto Non è che prima si risparmiassero lei con quelle false Continuate come prima Che tanto mezzo erano false lo stesso 20.000 like Prossimo episodio Detto questo direi che è dal camper Da Spawn E da Leo È tutto? Noi ci vediamo? Quando come? Come? Ma con un prossimo video AsganAway Ok 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 Ok